Tornano a vincere dopo mesi le ragazze dell'Arezzo calcio femminile. La partita contro Apuli-Atrani finisce 4-1 per le Amaranto. È il secondo tempo a regalare alla CF Arezzo la vittoria che mancava dallo scorso 13 dicembre. Le Amaranto provano a spingere già nei primi 45 minuti ma sprecano soltanto due ghiotte occasioni e vanno vicine al gol. La prima rete arriva al 56esimo con un grandestro dalla tre quarti di Razzolini e palla in rete dopo aver toccato la traversa. Dopo poco è sempre Razzolini a raddoppiare su calcio di rigore. Il Trani accorcia le distanze al 72esimo con una punizione di Russ ma la CF allunga di nuovo all'88esimo con Zazzera su assist di Bassano. Nel recupero è sempre Bassano a servire Zazzera per il definitivo 4-1. Un successo che permette alle ragazze di Testini di distanziarsi di sei lunghezze dalla zona retrocessione. Sì finalmente si può dire così. Io purtroppo non riesco a rimanere sul pezzo quindi faccio festeggiare le ragazze, la società, il presidente perché è giusto che lo facciano. Io già sto pensando a domenica prossima perché è lunga ancora non voglio personalmente perdere l'attenzione e la concentrazione su quello che è l'obiettivo finale. Il momento era difficile, siamo riusciti a fare due risultati importanti. Questo di oggi era uno sconto diretto, tutti erano preoccupati. È normale che lo fossero perché la Puglia comunque sia nel giorno di ritorno aveva fatto tanti punti, aveva subito pochissimi gol. Quindi faccio i complimenti alle ragazze purché sono state tese per gran parte del primo tempo però hanno fatto una grande partita. Quindi io gli faccio i miei complimenti a tutte, nessuna esclusa perché chi ha giocato, chi non ha giocato e chi è entrata ha dato un contributo alla squadra e la vittoria è stata una vittoria di gruppo, di squadra. Spesso rifletto sul punto che non sempre il risultato finale del calcio rappresenta effettivamente quelli che sono le qualità in campo. Oggi il risultato è coerente con quello che è la nostra squadra. Tra l'altro l'ho vista preoccupata nel primo tempo perché le ragazze probabilmente erano un po' intimorite, sicché non giocavano libere come doveva essere. Sicuramente le ragazze affrontano le ultime partite con un po' di tensione. Oggi sono sceso, non sceso in campo insomma, entrato vicino alla panchina e il primo gol quindi probabilmente insomma psicologicamente questo è stato positivo per me. Sicuramente sapevamo dell'importanza della gara, loro hanno cominciato forte come era normale che fosse. Secondo tempo diciamo che probabilmente hanno perso qualcosa fisicamente, noi siamo rientrate convinte, ci siamo sbloccate e poi la partita è andata come come doveva andare insomma. Una grande rete la prima eh? Sì io questa conclusione da lontano ce l'ho diciamo così, ho visto il portiere un po' fuori ce l'avevo messa bene, ho calciato. Se non si calcia gol non si fa di sicuro.